Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, come vi ho anticipato nel titolo, arriva Putrido Pantano. Guardate che cosa è appena apparso in mezzo alla strada tra la stazione di servizio e Gerusalemme. Eh sì ragazzi, non è ancora attivo ma è il nuovo Rift Beacon e la posizione è veramente molto molto strategica. Come vedete già sappiamo che la zona vicino al fiume si sta oscurando, il che vuol dire il ritorno di Putrido Pantano e questo Rift Beacon ne è semplicemente la conferma. Non sappiamo quando sarà di nuovo disponibile, ma non vediamo davvero l'ora di rivedere una delle location più attese per i giocatori di Fortnite e per gli OG Player. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, non appena avrò notizie le avrete anche voi. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao! Ciao!